Sarà a Borna ragazzi, è appena finita la partita tra Napoli e Milan che si è appena conclusa da pochissimi secondi Finita 3-2 per il Napoli, ma è una partita bellissima! Anche un milanista lo può dire, una partita bella da vedere, anzi è stata bella da vedere E emozionante, ricca di gol, colpi di scena, giocate, a più non posso Cioè ma che partita ho visto? Cioè il primo tempo ho pensato, questo Napoli sta proprio schifo, secondo me la chiave Perché il Milan nel primo tempo ha completamente, diciamo, amministrato il gioco E stava dominandone sul Napoli Che sì, facciamo stesso palla, crea azioni, ma non riusciva a dare profondità alle azioni offensive Mentre il Milan, con le poche azioni, riusciva sempre a buttarla dentro Più che buttarla dentro, riusciva sempre ad entrare nell'area avversaria E questo ha pagato, perché il Milan si è portato in vantaggio E l'ha mantenuto per quasi tutto il primo tempo Grazie ad un gol di Bonaventura, che mannaggia a chi lo scemo Tengo in banchino il fan da calci Era una segnata proprio quando teneva in banchino Ha fatto due gol Praticamente sta facendo una finta di tra sul sinistro Invece l'ha tirata di esterno al volo Mamma mia, nulla da dire, bel gol di Bonaventura Il primo tempo ha giocato molto meglio il Milan In Napoli fa qualche occasione, tipo un tiro di Milik, però centrale parato da Donnarumma sul finale Poi Gallegone che ha fatto quel tiro di esterno strano Insigne ha fatto quel tiro a giro, chiamiamolo tiro a giro Tra virgolette Diciamo in Napoli, forse nel primo tempo si salvano Si salvarono, si sono salvati Se mai sono Zierinski e Allan Il primo pressava e dava una mano incredibile per le ripartenze Il secondo invece Allan è tutto cuore Allan è un giorno fondamentale E non solo in questa partita, ma proprio di tutto lo scacchiere del Napoli Senza Allan in Napoli perde almeno il 50% del proprio valore Del proprio tasso tecnico Senza Allan in Napoli, diciamo, perde molto Se Giorginio perde un po', ma Allan perde ancora di più Il secondo tempo, la prima parte, diciamo, è ancora dalla parte del Milan Perché il Milan non riesce, diciamo, in Napoli non riesce ad entrare facilmente nell'area avversaria Mentre il Milan a volte si dimostra molto più pericoloso degli azzurri Difatti il Milan riuscì a trovare anche il raddoppio con Calabria Calabria ogni volta gioco fuori casa Adda sempre segnare Sempre Sempre, deve sempre segnare Calabria, alla Roma, pallonetto, Napoli, gol Mesce Frosinone, un gioco Mesce Frosinone, adda segnare sempre Calabria Boh Cioè voi devi segnare, voi devi segnare Crotone Poi dal sessantesimo circa il Napoli è passato da così A così A così È passato da così a così Cioè è stato un Napoli completamente nuovo Diverso da quello che abbiamo visto nel primo tempo e nella prima parte del secondo Non so se sono stati i cambi Però i no entrati hanno fatto bene Difatti Diavara a posto di Amsic è stata una grande mossa Perché Amsic ha giocato malissimo Amsic ha giocato molto peggio rispetto alla gara con la Lazio Diavara appena è entrato ha dato qualcosina in più Mi è piaciuto tantissimo Non ha perso un pallone Quando era prestato avanzava e passava Così deve fare un centrocampista Deve avanzare, deve sempre passare Non deve guardare a terra, deve sempre guardare faccia a faccia E deve andare avanti, deve passare Questo deve fare un centrocampista E Diavara ha fatto benissimo Poi è entrato Luperto Devo dire la verità Luperto mi ha impressionato Luperto mi ha impressionato tantissimo Non lo considero ancora forte Però in partite come queste Che giocatori come lui che non hanno tanta esperienza Mi aspettavo che non brillasse Però mi ha fatto vedere delle buone cose Soprattutto a livello difensivo Come terzino non è che mi faccia impazzire Però come difensore diciamo Può essere il pane per il Napoli Diciamo lo voglio osservare meglio Voglio vederlo per un altro po' Prima di giudicarlo definitivamente Perché per una partita non vuol dire un cazzo Poi l'ultimo ingresso è quello di Mertens Che non dico che sono proprio a cambiare la partita Però diciamo ha dato fuoco Ha dato spettacolo al Napoli Ha dato spettacolo Ha creato panico alla difesa del Milan Con la sua velocità e con il suo dribbling Diciamo analizzare Non dico più nelle pagelle Ma chi mi è piaciuto meno Allora secondo me Del Milan nel primo tempo è piaciuto Buonaventura Perché ha fatto un gol della Madonna È stato il migliore del primo tempo Secondo me nel Milan Borini che ha fatto una partita Come diciamo come sempre fa Cioè non brida a livello tecnico Però dà tanta sostanza Quantità Ed è anche molto generoso Gioca molto per la squadra Mentre gli altri Diciamo alcuni sufficienti Ma non mi hanno fatto impazzire Solo Borini e Buonaventura Mi hanno impressionato di tanto Donna Roma Il 6 alla fine Musacchio mi ha sorpreso Musacchio e Romagnoli Mi sono piaciuti Quando il Milan stava Diciamo Quando il Milan stava Stava dominando Poi sono scesi anche loro Però mi sono piaciuti Soprattutto Musacchio Che mi ha sorpreso molto Mi ha sorpreso anche il fatto Che abbia giocato lui Al posto di Caldara Mentre sulle fasce Calabria mi è piaciuto 6 e mezzo Riccardo Rodríguez Non tanto Diciamo non dà Quello sprint Che serve per un terzino Di spinta Il centrocampo Buonaventura mi è piaciuto Che si è Buono per una parte Poi a tratti è scomparso Biglia non mi è piaciuto Per niente Bacheco Costo E sta cosa perché si è L'Axalt Ha fatto delle buone cose Cutrone senza voto Iguain Mi ha un po' deluso Si è divorato un gol Che poteva portare Al pareggio Che poteva Portare il Milan Sul 3-3 Sono contento Perché Iguain È già un giocatore Stratosferico E meno male Che non è riuscito a segnare Però cazzo Coulibaly Potevi fare di più Iguain Coulibaly per me Non dico i peggiori Però è quello Che mi ha deluso Perché Su Iguain Ha perso tantissime volte Diciamo si è perso Buonaventura E Calabria Sui due gol del Milan Si è perso Iguain In 2-3 ripartenze Che se non c'era Al Biol Inavri avrebbe preso Il gol Però nel finale Coulibaly è cresciuto molto E si è dimostrato Il difensore che Però c'è da migliorare Varei Un'insufficienza Ma non grave 5 e mezzo Mentre Isai Isai mi è piaciuto di meno Perché in difesa Ha fatto qualche intervento Però In attacco Isai non si può guardare Almeno Ancelotti Provasse Maquitti Invece no Da mettere Isai Che fa solo stonzate In attacco Marorui mi è piaciuto Marorui invece Mi è piaciuto tanto Se nella partita con la Lazio Mi è piaciuto molto di più L'albanese Che il portoghese Contro il Milan È stato l'opposto Marorui si è fatto vedere Tantissimo Anche perché Isai Non aveva un cliente Difficilissimo Come Borini Mentre Marorui doveva impegnarsi Visto che aveva su uso Che ogni tanto Rientrava Rientrava in difesa Per dare una mano ai compagni Quindi Marorui Ha dovuto impegnarsi Per far bene E ci è riuscito Nel centrocampo Amsic mi ha deluso Amsic mi ha deluso tantissimo Ha giocato male Gli avrà bene Come ho detto prima Ci sono due centrocampisti Nel Napoli Che devo dire Sono stati i migliori in campo Il primo è Allan Che Anche questa volta Ha giocato una partita Sensazionale Le cubrava i palloni Pressava Cioè Su ogni passaggio Sbagliato dal Milan Allan c'era sempre Su ogni pallone Qualche passaggio L'ha sbagliato Però Non grave Diciamo Nell'era del Napoli Pi che altro Però Perdeva poche volte Il pallone Corriva Tribblava Si inseriva Grande Allan Per di più Ha fatto anche l'assist Per il gol di Mertens Good job Per Allan Zienischi Secondo me Il migliore in campo Zienischi Il migliore in campo E grazie a lui Se il Napoli Se il Napoli Diciamo Ha cambiato faccia Perché senza di lui Il Napoli Probabilmente avrebbe perso Avrebbe rischiato Anche qualche gol in più Invece con Zienischi Con la partenza di Giorginio Secondo me Ha molto più spazio E con Sede Kamsik Gioca davanti alla difesa Zienischi è lui Che giocherà Mezzale Mezza al campo Quindi sarà lui Che può mettersi Pimmoso E poi far vedere Le sue qualità E lo sta dimostrando Infatti ha fatto Due gol bellissimi Il primo Un bel gol di sinistro Il secondo Stato un po' fortunato Diciamo Il rimpallo Però il gol È bello lo stesso Zienischi Grande prova Otto e mezzo Secondo me Mentre l'attacco Callecon mi è piaciuto Nel secondo tempo Sicuramente Callecon È cresciuto In maniera esponenziale Anche in fase difensiva Ha fatto bene Però nel secondo tempo Si è visto molto Ha fatto anche un assist Una prova di Callecon 6 e mezzo Insigne è malissimo Insigne ha giocato male Insigne quando è entrato Mertens Si è svegliato Ma la prova di Insigne Si è insufficiente Primo tempo Disastroso Secondo tempo Diciamo Non ha fatto niente Di meglio Cioè non ha fatto Niente di più 5 Cioè Insigne Per me ha giocato male Non è stato L'Insigne della Lazio Che è stato forse Uno dei migliori Mentre Mertens Ha giocato bene Milik un po' spento Milik non è che Abbia giocato una schifezza Però Si è visto troppo poco Troppo poco Si è visto poco Mentre Mertens Quando è entrato Ha fatto vedere Che nel secondo tempo Può spaccarti le partite Se fosse Ancelotti Mertens Lo sposterete Tra Milik Lo mettere Trequartista Piuttosto che esterno Come esterno Si vede poco Come esterno Preferisco Mille volte Insigne Perché Insigne Come esterno Ti fa cose come Il ripiego La velocità Invece Mertens Non ce la fa A correre tutto il campo Come Insigne Quindi Mertens Lo metti Centrale Lo metti Ti da Milik Così non deve stancarsi Troppo E può sfruttare meglio Le sue qualità tecniche Invece l'esterno È costretto Anche a fare Il ripiego Per questo Per questo L'esterno È meglio farlo Insigne Perché è un giocatore Che ti fa anche La fase difensiva E Insigne Cerca la giocata Mertens È più egoista Pensa a buttarla dentro Fa il finalizzatore Abito da fare così Invece Insigne Gioca anche per la squadra Cioè cerca il passaggio Per i compagni Quando il Navi Non riesce a segnare Insigne Da solo Cerca la giocata Individuale Diciamo Cerca di sbloccartela Allora Ma ho fatto Questa analisi tecnica Che spero Che non vi abbia annoiato Invece è annoiato Lo so già Grande vittoria Questo è un buon passo Questo Napoli Mi sta piacendo Continuiamo così Battere le big È un grande passo Verso lo scudetto Io ci credo Bisogna crederci Se non si crede Allo scudetto Non siete tifosi E non ve lo meritate Per me Chi non crede allo scudetto Non lo ritengo Vincitore Non lo ritengo Tifoso Di una squadra Che ha vinto lo scudetto Anzi lo ritengo Tifoso Ma non che abbia vinto Lo scudetto Perché per me Lo scudetto Va dato solo A chi ci crede Quindi Il suo video Finisce qua E ciao